E' partita dal Teatro Italia di Gallipoli la tournée pugliese del famoso duo comico siciliano Ficarra e Picone, che dopo quattro anni di assenza dal teatro torna a calcare il palcoscenico con Apriti Cielo. Il desiderio di sentire di nuovo il calore delle risate del pubblico, quindi, è stata la molla che ha spinto il duo siciliano a costruire questo nuovo testo, che come i precedenti lavori è costituito da quadri di vita quotidiana con i suoi paradossi al limite dell'assurdo. Insomma, i due comici, prendendo spunto dalla vita di tutti i giorni, piena di cronaca nera, politica, religione e tanto altro, ci offrono, con la leggerezza che li contraddistingue, una riflessione divertente sulla nostra società e sulla nostra nazione, regalandoci uno spettacolo dai colori forti, ancora una volta scritto e interpretato da loro stessi. Ieri pomeriggio Ficarra e Picone sono stati ospiti a Surbo nella redazione di Pandora, dove dopo l'intervista hanno incontrato i fan per foto e autografi.